Parlare davanti al G può avvalersi della facoltà di non rispondere. Questa è la decisione fondamentale che i Moretti dovranno prendere questa settimana, entro la quale si svolgeranno gli interrogatori di garanzia per gli arrestati e gli interdetti a seguito del blitz della Guardia di Finanza di Arezzo dello scorso venerdì. A finire a domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata la commissione di reati tributari, bancari, fallimentari e riciclaggio, erano stati l'imprenditore e a retino del vino e della moda Antonio Moretti assieme al figlio Andrea, Marcello Innocenti, ragioniere del gruppo e Paolo Farsetti, responsabile della linea di abbigliamento. Il GIP aveva inoltre disposto la misura interdittiva dall'attività imprenditoriale per altre nove persone. La procura di Arezzo aveva disposto il sequestro di 179 immobili e 500 ettari di terreni. Antonio Moretti ed il figlio Andrea, rinchiusi nella villa di famiglia, questo fine settimana hanno incontrato il nuovo difensore, l'avvocato Stefano Campanello, poco nulla ancora, trapela di quanto si sono detti, ma la prima decisione da prendere resta comunque questa, tacere di fronte al giudice o rispondere sin da subito, mettendo in pratica una strategia difensiva che poi sarà difficile da cambiare. L'interrogatorio di garanzia non è stato ancora fissato dal GIP Ponticelli, ma si svolgerà comunque nel corso di questa settimana. Tremano infine anche i lavoratori dell'attività della famiglia Moretti, dalla tenuta a Sette Ponti alla Pullov. Nonostante infatti i sequestri di immobili e terreni non pregiudichino attività produttive e commerciali, a spaventare i lavoratori sono le possibili ripercussioni negative che una bufera di tale portata potrebbe portare.